Nintendo Switch Sports è in arrivo il prossimo capitolo della serie Wii Sports con discipline familiari e altre tutte nuove ti diamo il benvenuto a Spocco Square dove puoi trovare gli otto sport inclusi in questo gioco servi ricevi alza schiaccia e mura usa i comandi di movimento del controller Joy-Con per dominare il campo nella pallavolo coordinati con il tuo compagno e attendi il momento giusto per andare a segno con potenti schiacciate muovi lo stick dopo aver ricevuto la palla per eseguire un attacco con finta con cui sorprendere gli avversari usa gli intuitivi comandi di movimento per colpire il volano nel badminton indirizza i tuoi colpi a destra e a sinistra sorprendi il tuo avversario con una smorzata e finisci con una schiacciata nel bowling lanci la boccia muovendo il braccio variando il movimento puoi imprimerle un effetto troverai anche delle sfide speciali con cui mettere alla prova la tua tecnica nel calcio puoi andare a rete con potenti tiri o spettacolari colpi di testa in tuffo scegli fra incontri 4 contro 4 o sfide 1 contro 1 usando la fascia per la gamba inclusa con la scheda di nintendo switch sports potrai giocare con controlli di movimento intuitivi muovi le braccia per correre e calcia per lanciare la palla nella modalità rigori calcerai usando solo la fascia per la gamba man mano che segni la porta si rimpicciolirà per aumentare il livello di sfida para gli assalti del tuo avversario per coglierlo di sorpresa e contrattaccare nel ciambara hai tre tipi di spade a disposizione accumula energia mentre ti difendi per scatenare un potente attacco con la spada a energia o impugna due spade contemporaneamente nel tennis partecipi ad avvincenti doppi impugnando il controller joy-con come se fosse una racchetta in base a come muovi il braccio puoi eseguire una varietà di colpi come slice e pallonetti e anche imprimere un effetto alla palla gioca a golf usando il joy-con come se fosse una vera e propria mazza ti attendono 21 buche della serie Wii Sports calibra la potenza e la direzione con dei colpi di prova modifica la traiettoria in base al vento e prova a mettere a segno un bel colpo comode funzioni come la possibilità di controllare l'inclinazione del terreno permettono a tutti di andare in buca come professionisti nel basket puoi palleggiare passare e tirare usando i comandi di movimento in partite due contro due fatti strada fino al canestro per schiacciare o segna dalla distanza con i tiri da tre quando difendi prendi bene il tempo per rubare la palla intercettare i passaggi e bloccare i tiri dei tuoi avversari inoltre fino a quattro giocatori possono anche affrontarsi in frenetiche sfide dei tre punti contro il tempo che siate nella stessa squadra o giochiate l'uno contro l'altro grazie alla modalità locale potrete divertirvi con parenti, amici o con chi vorrete voi tutti gli sport sono compatibili con il gioco in locale e online oltre ai tuoi amici puoi affrontare anche giocatori di tutto il mondo scelti a caso il gioco online permette a un massimo di 16 giocatori di affrontarsi in partite di bowling a eliminazione mentre fino a otto utenti possono scendere in campo insieme per giocare a golf a eliminazione o divertirsi in partite di calcio 4 contro 4 accumulando vittorie online puoi raggiungere il rango di professionista nei vari sport e qualificarti per la lega pro le leghe sono suddivise in base al rango da livello infinito a livello E mettiti alla prova e punta al vertice puoi personalizzare l'aspetto del tuo sportsmate modificando elementi come il viso i capelli e l'abbigliamento puoi anche impersonare il tuo Mii accumula punti giocando online per sbloccare ancora più oggetti per il tuo personaggio gioca con amici e parenti o sfida altri giocatori di tutto il mondo grazie agli intuitivi comandi di movimento di Nintendo Switch Sports il divertimento è alla portata di tutti Nintendo Switch Sports e poi